Lanciare un messaggio di fiducia per il Sud al di là della crisi, questo è l'obiettivo dell'edizione 2018 del premio Serie d'Oro Mezzogiorno che prenderà il via ad Oliveto Citra il 6 settembre e andrà avanti fino al 15, proponendo una serie di seminari, spettacoli e anche concerti con la partecipazione del cantante Herman Meta. In Sud We Trust, questo è lo slogan dell'edizione 2018 con la partecipazione del sottosegretario alle infrastrutture e trasporti, Rixi, il presidente nazionale di Confindustria Boccia, quello dello Svimez Giannola, dell'ex ministro De Vincenti e di altri rappresentanti del mondo politico, imprenditoriale e giornalistico. Prevista anche una giornata della legalità ed un contest per i giovani. La serata finale del 15 ospiterà la cerimonia di consegna dei premi dal titolo Mediterranei tutta italiana d'autore. Il tema di quest'anno in Sud We Trust è un momento particolarmente difficile, se volete anche di disorientamento, abbiamo voluto riproporre un tema di fiducia, non per avere l'ambizione di dare risposte, ma per una voglia di ricerca alle domande che ci sono, a partire appunto dalle potenzialità del nostro mezzogiorno. Ma io aggiungo a partire anche dalle cose buone che sono state fatte, perché ogni tanto siamo noi meridionali pronti anche un po' all'autoflaggellazione. Ci sono cose buone, consapevole delle cose che non vanno e da qui dobbiamo partire dal mezzogiorno per il bene del mezzogiorno stesso, ma per l'intero paese. Ricordo a me stesso, ma a tutti quanti, che noi non siamo una manifestazione del mezzogiorno rancoroso, della divisione, di quanto ci hanno depredato, di quanto ci hanno tolto, insomma, ma siamo un mezzogiorno che guarda alla nazione intera, ma deve necessariamente guardare al Mediterraneo all'Europa. Quindi una dieci giorni di riflessioni, di seminari, di incontri con autori, giornalisti, uomini di, diciamo, delle istituzioni sia di Confindustria, il presidente Boccia, che ci onora della presenza anche quest'anno. Anzi, quest'anno c'è una sorta di legame, perché lui ha chiuso insieme a De Vincenti l'anno scorso, quest'anno apriamo con lui e De Vincenti e auspicabilmente con qualcuno del governo, per dire da un anno all'altro, ecco, fare un po' il punto della situazione su questo nostro mezzogiorno, su questa nostra Italia.